Per i motivi che tutti conosciamo, quest'anno non sarà possibile celebrare la giornata internazionale della donna qui al Quirinale, ma desidero ugualmente inviare a tutte le donne italiane e a quante si trovano in Italia un messaggio di vicinanza, di solidarietà. Ora rivolgo anzitutto un pensiero riconoscente. Alle donne sono tante che sono impegnate negli ospedali, nei laboratori, nelle zone rosse per contrastare la diffusione del virus che ci preoccupa in questi giorni. Lavorano in condizioni difficili, con competenze e con spirito di di sacrificio, con dedizione, con la capacità esemplare di sopportare carichi di lavoro molto grandi. A loro, in special modo, vorrei dedicare questa giornata così importante. Da tanto tempo le donne, in tutto il mondo, sono protagoniste di progressi sociali e culturali di grande importanza. In numerose occasioni e in ambiti differenti sono state motori del cambiamento. Vorrei ricordare anche come le donne contribuiscano in misura particolare a cogliere il valore universale e concreto del dialogo, della solidarietà, della pace. Sostenere e rispettare la condizione femminile, ascoltare le donne, vuol dire in realtà rendere migliore la nostra società, per tutte e per tutti.